L'altro aspetto che mi è interessato in gente è parte di caso non disciplinario. Oggi la nostra tenda è che noi chiamo un appare e efficiente, un apparato governamentale. E un'indicazione che mi ha detto che è un aspetto personale, anche l'attenzione, la parte di recompensazione, la parte di bewordering. Perché è un altro, anche l'attenzione, la parte di caso non disciplinario del governo. E mi lo designa il governo indicarli se sanno aumentati e che lo facci per combattere la comportazione non integra del apparato governamentale. Il messaggio è che la mia domanda, sì. Il PBI è processo andare da un modo oltre. Non è complicato il periodo di questa mara di legge, non è finita la mia domanda. e il messaggio non arriva anche a quello che si tratta comportazione, decisioni, accioni incorrecti del apparato gubernamentale lo è buono per il governo donare un update over di Esaki un aspetto più interessante che è da presentare durante la presentazione di Lance Packet è prestazione management qui parte come avisa di valorizzazione e di nostre empleato non pubblico e lo che è stato di governo che si tratta di introduzione di Esaki prestazione management e che si tratta di lavoro strutturalmente con funzionari e le ordine rispetto del apparato gubernamentale e che se è stato in verità che è stato implementato nel anno 2023 e se è stato in caso mi domanda se il tuo departamento è stato chiaro per Esaki per lo che tratta di infrastruttura mi tiene la siguiente pregunta nel ultimo tempo non si tratta di rupi a trovi non si tratta di caso di avestruz caso non strano quando si tratta di passare che il ministro si tratta di approbare il terreno senza fare il processo offiziale senza dare non si tratta di avestruzare non si tratta di avestruzare off pensai mesmi chersa di gobierna Kiko Tahassi per prevenire il caso non è anche mi chersa se costa anche di afforzare signor presidente Algo che mi chiede è tenere il suo luogo per il governo di una attenzione ave durante la contestazione. Passei a me pregunta. Passei preoccupazione di grandi, non di emisio, però di gentile del pueblo.